Oh, è la cosa nuova, che questa sembra molto carina, devo dire. Pichiro non rifundabile, ci dispiace. Scusate, che cosa ho appena aperto? Vabbè, dai, ma che è sta roba? Mamma mia. Castellanos o Turam. Bene, iniziamo benissimo il nostro tour di pic aperti. Sì, Uro, ormai avevo votati. Vabbè, erano 6 anni di ogni età. Se la volevamo di tutta. Ma ormai in realtà non mi ricordo più manco io quanti sono. No, 8 o no? Erano dei meno. Perché l'ultimo poi l'avevo votato a distanza di Nanno, tipo. Llorente com'è? Ti è beccato Yard Zaballo Veroli. Ma io che sto da un 84 e un 85 per fare sta cagata di rosa? Non sto tanto convinto, però ormai un 84 l'ho mandata. Allora, che c'è bene? C'è 83. Ma ci abbiamo venuto al picchettino? Sì. Beh, questo è tanta roba al picchettino. C'è tanta roba, non lo so. Te direi, rabbio, che forse c'ha mezzo le gambe per campare. Tu linki con quel costi c'è già posseduto. Direi lui, direi, guarda. Apriamo pure l'85, va già che ci stiamo. Adesso 87 if, dai carino. Mo' apro sto picchetto e lo faccio vedere. Due, uno, via. È vero, Teo c'è sta Dynasty. Beh, bello quello. Arda che imbecilli, altro che Teo Dynasty. Zidane, Slotter. Ma ci potevano mettere e poi ti trova pure i coni. Va a fanculo a sto punto. Che cazzo te costava? Ci mettei pure Naikon base in mezzo. Così per facce tu... Facce un po' contenti. Più coglione. Allora, questo non è male. Uno di quattro. Tutto. Come sto qua? Volete fare un'esotica? Ecco, fatelo coates. Però che cazzo c'è, dove fai coates? Picca, arrivo pa. Ma sto sempre gli sti... Poveri in realtà... Ma che cazzo c'è, dove fai co' poveri? Ma sta cazzo è là non si esce sempre. Pure vi... Mamma mia che carte. Questo lo sai cavolo, lo provo però? Perché è 5-5 con l'R1. E il power, non dobbiamo, non è manco orribile C-C. Però... Bella, ragazzi. Vi ricordo sempre che se siete alla ricerca di crediti per gli AFC24 scontati, veloci e sicuri. Vi lascio il link in descrizione con il codice sconto YOSHI. Quindi mi raccomando, fatene ovviamente buon uso e in maniera intelligente. Io vi do un bacione e ciao! Ah, sta a Roma, sta lì, sta... Sta... Sta a dormire. D'altra volta che becco 9? Ma così tanti, vi? Bravo, Cardi. Capisci tutto. Walker Winter, ma ti dì meglio di Carlos Alberto? In teoria 3-7, entrambi DC. Di quello di DC, devi creare. Overall, un bel Mats Hummels è avuto. Eccolo! Quanto sta Hummels? Eh, però... Che t'hanno fatto? The Bina Winter non è male, però non mi ha fatto impazzio usare C-C stasi... Mamma mia. Razzo, rapido, talento naturale, tiro di precisione. Eh, questo ce l'hai, non è questo. Oddio, questo è in realtà con 5 de skill, tutto pazzo. Guarda che sto codice non è male. A meno che va a prendere Ollund per farci l'SBC, guarda. Te lo lascio lì così scegli te. Dio, meglio il pacco da 35 o da 30? Io il rompichiaccio non lo prenderei a prendere l'altro. Convisione tale di N-T8, però ho visto gente... Eh, perché hanno fatto un'altra Evo che però è scaduta. Però te dico, già quello è un fenomeno. Di VVDF, sono un po' di... VVDF è forte sempre, però Ido è una signora carta, quello. Più di due settimane, forse anche un mese. Eh, ma allora contatta il... La banca, scusa. Posso evolvere il Reina di Goll, l'ho visto. Almeno se vi faccio Darmiano sul primo. Toi, non giù... Non ti ha spalla, come scrocchia, tiè. Via. Ma ne abbiamo trovato uno buono dentro a sto cazzo di picche, scusatemi. Uno, un mega teneghiato 100. Uno buono, tiè, boniface. Cicri, Kostic. Questo con 99 di tiro, senza playster, sul tiro. Tiè, guarda che bravo. A pupazzo, attaccata a sto cazzo. A TT al posto di Gino, la base budget è 5 milioni. 5 milioni vuoi capire il fenomeno? No, forse sta a 6. Mamma mia, che disperazione di picche. Tu fa pure il mio, non lo voglio aprire, te giuro. Ehm... Forse me farei... Sì, ehm... O metto da parte e cerco a rivare R9, che secondo me è troppo più forte dell'altri. Ma Ciampi, sai perché? Magari usciva qualche altra cosa. Che ne so, è una sorpresa. Su PC è più attenzione che R9 è estinto sia a base che Toti. Ma pure su PC funzionava quel glitch. Posso dire questa De Bigna, secondo me, è superiore alla De Bigna che è uscita SBC. Onesto, piccherai De Bigna, che è una bella carta. Il carto c'ha l'R1 oro rispetto a quell'altra che c'ha la Trivela, d'oro con l'affanculo. Filopezzi, non puoi rinnovare. Mi dispiace dirti, ti darò una brutta notizia, Filopezzi. Mmm! Mmm! Ma è 90! Ma ho regalantezza, po' a vedere. E poi, 150 mesi, pure la potrò dare uno scambio e ve l'ho frullato in entrambi il rip. Ma insieme a provarlo. Ma è mandato praticamente uno fatto un glitch dove... Cioè, più di un glitch è uscito un bug post-patch dove tu potevi praticamente, in un nuovo account, riscattare all'infinito gli obiettivi. Uscivi, rientrai da altri metti, ma gli obiettivi fatti si ricaricavano. Quindi uscivi e rientrai all'infinito anche da web app, lo potevi fare. Eh, se creava sta situazione assurda. O gli arzaballa, presumo, perché tanto l'arte fanno tutti cagare, vero? Cos'è il mio? Quindi che si, sto 100.000 crediti per sto picco, se siamo fatti spilare. E qui che gli vorresti chiedere? Ronaldo Winter gli chiederai che c'ha l'R1, dai. Sì, sì, filo, no, proprio la sigaretta in bocca. Amico, c'è servire proprio un punticino domani. Mamma mia, che ropetta! Che bravi! Sorabbio com'è? 3-3. Lancio lungo, palle inattive, forti, scivolata, plus, aereo, primo contro. Mamma mia, so, so orribili, so. Vabbè, questi rifrullano dentro un builder, però, insomma. Avergi, istrazione, e via. Nascondi, nascondi. Ok. Da da Mestr9. Allora, tanta forza. Tanta difesa. Dribbling, me. Ma chi ha Koeman, questo? No, Rhaikar. Mamma mia, quanto sta Rhaikar da sul mercato? Che culo. Ok. Ma chi è Erdo? Van Persi. Mamma mia, questi due che imbecilli. Dribbling assurdo, questo. Per passaggio, per tiro, bella velocità. Oh, Bobby Charlton! Bello! Bello! A me di Bobby Charlton! Ebbè, rialo! Non avevo mai provato! C'ho C a T. Quanto sta? Beh, me sa che... Ah, non posso vederlo perché c'ho il mercato bannato, è vero. Allora, allora, allora. Prima ha portato bene. Lo riapriamo. E vediamo un po' chi ci dà. Ci giochi? Eh, sì, 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 no. C'ho io giocato un pochettino. Il carto dei Bruintoti. Mamma mia, ma chi è sto scemo? Tre se... Bah, ma come fa a dammi tre se che ha febbraio? 94 di senso, 80 di parso, 51 di aggressione. 99 di precisione di testa. Fire, grazie per il sub e benvenuto. L'outroop non è male, eh. 71 di forza, aggressività, bella fase di difensia con poca forza. Buondri... Ma insomma, che è Bobby Moore, tipo. Ah, no, è Baresi, è il cugino. L'ultimo, quello che può dare una speranza, una chance alle nostre bette. Ma posso dire, l'outroop io muovo, io comunque. Che... Whip è d'oro! Non è... Non è male, eh. È una buona carta, assolava. Costa 2,80, infatti, è risaluto. Più da 150 non stanno nei pacchi. Comunque c'è un sacco di playstyle. TD e Dada, fa tutta la fascia testa. Buona... Buona cartina, fine. Sti cazzi, posso tipo... Te andrà molto peggio. A me non ci ha dato uno gameplay. Che link a tutti, soprattutto. Però è l'ose, perché il mio ne mezzo non lo fanno manco se l'altro. Troppo moltiplichi per 10. Subito la evo de Neymar era sbrocchiata, però. Aspetta, chiudo un occhietto così non vedo che esce. Ok, se si apri. R3. Tata. Ok. Mazza, questo che fisico c'ha, oh. Mamma mia, ma sta in piedi questo. Corpo e testa del mer... Dribbling assurdo, però. Passaggio devastante. Tiro abbastanza buono e veloce. Garrincia. Nooo. Eh, doppione, raga. Ma questo è l'outroop. Ma ne abbiamo trovato prima. Ma chi è? Schavi, questo. Pirlo, mamma mia. Ma almeno dammi quello Winter e facevamo l'up, stronzo. Beh, 90.